La conferenza stampa di Revenge, film per il quale abbiamo Matilda Lutz, la protagonista, che fortunatamente parla anche italiano, quindi sentiamo la sua voce direttamente. È un film della regista Coralie Ferjean, francese, ma appunto un film molto americano in realtà nello spirito, che abbiamo collocato nella sezione After Hours e se non l'avete già visto lo potete vedere anche lunedì, perché sarà proiettato di nuovo. Oltre all'attrice protagonista abbiamo anche presente qua l'amministratore delegato della Coach Media che distribuirà il film in Italia, è Umberto Bettini. Ah, eccolo, perché lo sapevo chi mi crea. Grazie per la presenza, poi magari le faremo qualche domanda anche a lei. Io direi che possiamo iniziare parlando appunto di questa storia, che è una storia di rape and revenge, cioè appunto una storia di vendetta dopo averne subita un'altra. e questa Matilda interpreta appunto il personaggio di Jean che viene invitata a una battuta di caccia, ma questa battuta di caccia che dovrebbe essere rivolta ad animali, poi in realtà si torce su di lei e quindi lei diventa la preda di questa caccia e quindi prima subisce violenza e poi in qualche modo vendica a se stessa direttamente. E quindi non le farei domande sul senso del film, ma piuttosto proprio sul suo ruolo di attrice. E quindi che cosa è stato per lei interpretare questo ruolo anche a partire da una trasformazione forte del corpo, che ti è stata richiesta e mi veniva in mente che forse avevi potuto guardare attori maschili che avevano fatto. In realtà il processo proprio del provino del film è stato un processo lunghissimo, sono la prima attrice che Coralie ha conosciuto, ero a Los Angeles dove vivo da tre anni e mezzo adesso e lei era lì solo per un viaggio diciamo breve e ci siamo conosciute, e poi il giorno dopo mi ha chiesto un provino così, diciamo, sono andata nella sua stanza di Utella alle 6 del mattino perché lei partiva alle 10 del mattino e abbiamo fatto un provino, poi mi ha chiesto altri, diciamo che in totale abbiamo fatto una decina di provini tra parrucche, unghie finte, costumi. Sì, ma ti sei trasformata, non ti ho riconosciuto. E poi in realtà aveva scelto altre due ragazze che però si sono impaurite quando sono arrivate alla prova costume e prove con gli altri attori perché comunque è un film diciamo abbastanza intenso. Però diciamo che l'ultima ragazza si è impaurita proprio a due giorni dalle riprese, quindi ho ricevuto una chiamata venerdì e sabato ero su un aereo per andare a Parigi. Abbiamo fatto le prove costumi, prove... Quindi diciamo che non ho avuto così tanto tempo per lavorare sul personaggio come forse avrei voluto, che da una parte però è stato un bene perché mi sono dovuta completamente affidare a Coralie e ha fatto un lavoro incredibile. Poi diciamo che la trasformazione proprio fisica del trucco parrucco, i capelli biondi, l'extension aiutano proprio a entrare nella parte. E poi il fatto che comunque la location, abbiamo girato il film in Marocco, ma che in realtà la regista ha deciso proprio questa location perché non sembrasse un luogo specifico, quindi un deserto qualsiasi. E diciamo che abbiamo girato a febbraio e faceva un freddo allucinante e ho girato l'intero film in bikini, quindi diciamo che è stata proprio un'esperienza diciamo anche a livello fisico molto difficile. L'arma era un'arma vera, quindi pesava tre chili e lei chiedeva di fare dei piani sequenza di due minuti, quindi anche quello ha aiutato proprio nella difficoltà fisica nel girare le scene. Poi correvo in mezzo al deserto a piedi nudi, quindi diciamo che arrivavo a casa con dei tagli su tutto il corpo. Però è stata veramente un'esperienza che mi ha cambiata a livello del fatto che comunque essendo stato girato in Marocco tutta la crew artistica e tecnica era completamente maschile. Eravamo solo io e la regista, le uniche donne, e quindi magari l'essere osservati, guardati, quindi mi sentivo all'inizio a disagio, però il film parlava proprio di questo alla fine. Quindi dopo le prime due settimane di riprese è cambiato il mio atteggiamento nei confronti degli altri uomini sul set e diciamo che una parte di me ha iniziato a fregarsene e mi sono accorta che di conseguenza mi rispettavano di più. Non so per quale motivo però... Non dico che avete riprodotto proprio la situazione del film perché quello no, però avete tentato di fare una specie di happening più che una ripresa vera e propria. Poi devo dire che Coralie è stata molto... non mi viene la parola, però mi ha messo sempre a mio agio. Quindi mi fidavo completamente di lei. Mi sono... C'è una scena in particolare che è stata molto difficile da girare che è la scena nella caverna dove faceva un freddo pazzesco. Eravamo lì da due giorni quindi ero proprio stanca. Poi giravamo 16 ore sul set in delle condizioni ovviamente non facili ed ero talmente proprio stanca che non riuscivo neanche a ricordarmi quello che dovevo fare. E quindi ad un certo punto era lei che mi guidava in quello che sentivo, in quello che facevo, in quello che mi capitava. E quindi c'era proprio un rapporto di fiducia tra me e lei. Bene. Vedo che c'è già una domanda per cui la raccogliamo. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Parola a Colori. Volevo chiederle a signorina Luz. Allora, è un film soprattutto fisico il suo nel senso che la trasformazione nella prima parte da Lolita nella seconda parte da Guerriera. Due parti molto forti fisicamente, scene anche molto forti. Volevo chiederle tra le due quale ha trovato più difficile interpretare e il fatto che appunto la regista fosse donna quanto l'ha aiutata sotto nelle scene di sesso che sono molto forti. Grazie. Allora, sempre per quel motivo che... per il fatto che non ho avuto tanto tempo per preparare il personaggio, mi sono un po' basata su due cose per i due personaggi diversi. La prima ho letto una biografia di Marilyn Monroe e mi sono basata su delle foto sue. Quindi il fatto che lei cercasse sempre di essere amata che aveva bisogno di essere amata che poi alla fine ha anche l'obiettivo di Jen nella prima parte del film. Quindi il fatto di essere leggera sulle cose e di cercare solo attenzioni dagli uomini perché poi alla fine è quello che lei vuole, l'attenzione e l'amore dalle persone. E poi invece per la parte più, diciamo, da Tomb Raider che io, mi sono basata su un lavoro dell'animale. Quindi pensavo alla pantera, pensavo a che cosa sentisse la pantera quando era, diciamo, in conflitto con la preda. E quindi secondo me uno degli aspetti sensoriali più sviluppati negli animali è l'olfatto. E quindi il fatto di, cercavo di sempre capire che cosa lei sentisse a livello di olfatto durante le scene o di udito. Quindi lavorare tanto sulla parte delle orecchie di Coralie. E' un film molto forte che sorprende tutto il fatto della regista donna che generalmente lo pensa un uomo e una donna. Quindi l'ha aiutata a calarsi nel ruolo. Quello sicuramente. Diciamo che forse proprio perché è una donna mi sono fidata di lei molto di più che se mi fosse trovata a lavorare con un regista uomo. Diciamo che anche il fatto che Coralie è una donna fortissima e dettava legge lei sul set. Ma con i producer, con la crew artistica, tecnica decideva sempre lei quando si finiva sul set. Se tutti se ne andavano lei rimaneva sul set a fare comunque delle altre cose. Non dormiva mai. Quindi ho visto la passione che lei aveva per questo progetto. e il fatto che lei ci avesse lavorato tre anni per tre anni prima di riuscire a trovare i finanziamenti e trovare un cast perché poi vabbè comunque è molto difficile fargli succedere, diciamo, i film. Quindi proprio avvertivo questa passione che lei aveva nel parlare del progetto nel parlare... Mi ha ripetuto tante volte che l'obiettivo principale che lei aveva comunque essendo un film neanche troppo reale, diciamo. È spinto agli estremi. La sua era una metafora per far capire che una donna può mettersi quello che vuole, può dire quello che vuole, ma non... non per questo bisogna prendersene vantaggio. E quindi lei mi continuava a ripetere questa cosa qua che anche per me è una cosa alla fine sono nata in Italia, sono cresciuta in Italia e quindi la realtà è questa che non è come Los Angeles dove ti puoi mettere quello che vuoi e nessuno ti giudica e nessuno ti guarda o ti fissa. Purtroppo c'è e quindi tante volte mi sono anch'io chiesta ma è normale che sia così e quindi vederlo soprattutto da una regista europea mi ha fatto effetto, mi ha fatto pensare e sto iniziando anch'io a capire certe cose. Grazie a te. Ci sono altre domande da giornalisti o... Ma io sentendoti raccontare questa tua ispirazione, cioè questa tua collocazione tra Marilyn e Lara Croft, mi colpisce molto perché Marilyn è storicamente la vittima, nel senso che è l'attrice che ha giocato un ruolo, sappiamo tutti, non era loca che voleva sembrare, ha giocato il suo ruolo però alla fine è stata sconfitta in un certo senso dalla storia. Quindi da un lato c'è questa figura fortissima, dall'altro c'è la donna puramente inesistente, cioè perfetta, progettata per i videogiochi. Quindi ecco, tra il videogioco e Marilyn News se non avessi visto il film non riuscirei neanche a immaginarmelo. quindi mi chiedevo c'è stata una progettualità in questo rovesciamento del vittimismo femminile in una forma aggressiva sostanzialmente, che devo dire la critica femminista ha spesso criticato, no? Cioè che la donna diventi un uomo e uccida più di lui, non so, ha suscitato un po' di critiche in realtà questa scelta. però capisco che dentro i codici del film diventa un'altra cosa, perché come dicevi tu non è realistica ma è talmente sopra che si fa un passaggio ulteriore. Ma diciamo che tutto il film è un po' non realistico, perché comunque anche la scena del tronco che si conficca nella pancia e lei che sopravvive riesce a scappare, diciamo, anche comunque i personaggi sono degli stereotipi un po', ma lei voleva proprio fare questa cosa qua? e quindi le tre tipologie di uomo, no? Quello che guarda, quello che invece sembra carino e poi alla fine non è... e invece quello che è proprio magari anche c'è una scena dove c'è Stan che è quello che mi stupra che diciamo si vede un attimo di pentimento dopo quello che ha fatto. Quindi di far vedere anche le fragilità di questi uomini ma che non giustifichi alla fine. e la cosa della trasformazione del personaggio è proprio l'idea dalla quale Coralie è partita per il film perché questo non lo sapevo neanche io fino a quando non ho sentito un paio di interviste che abbiamo fatto insieme ma diceva che lei l'idea del film lo ha avuto proprio dal personaggio quindi dall'idea che un personaggio debole e magari più fragile potesse diventare non potesse diventare perché lei è forte a modo suo ma potesse arrivare a una consapevolezza di essere forte che è quello che ha fatto fare a te come percorso di attrice che è diventato un training in pratica psicanalizzo cioè hai scoperto delle cose di te facendo il film medita come donna ma anche il fatto che magari ad esempio le armi non abbiamo fatto prove non abbiamo fatto corsi o comunque un training proprio su quella cosa lì ma attraverso il film ho imparato a sparare ho imparato a tenere l'arma ho imparato a fare non so cosa dire non so se essere contenta comunque è bellissimo è stato divertentissimo ok qualche altra osservazione c'è ancora lei certo sì volentieri ma no volevo chiederle cosa le è rimasto del personaggio appunto questa trasformazione questa politicità che ha dimostrato perché ha fatto anche The Ring un film in cui era da sola in un contesto completamente diverso quindi volevo chiederle dal punto di vista artistica e personale questi film che si scommettono su di lei se le dà coraggio per il suo proseguo di carriera per la mia carriera sì diciamo che l'esperienza è stata l'esperienza più difficile ma anche quella che forse mi ha cambiato di più nel senso che ho avuto tanti periodi della mia vita in cui ero insicura fragile ma come poi tutti e questo film mi ha dato una forza e mi ha fatto capire che alla fine non puoi piacere a tutti quindi l'importante è che piacere a te stessa e poi sai e quindi è una cosa che che porto dentro con me di gen diciamo poi il fatto di per la carriera ci sono momenti su e giù quindi momenti in cui ti senti che puoi spaccare tutto e dei momenti in cui invece ti senti che vuoi cambiare lavoro che non è il lavoro che fa per te che magari dovresti provare a fare qualcos'altro quello credo non cambierà mai ma credo che sia anche la forza che ti dà per cercare sempre di migliorarti cercare sempre di imparare di non fermarti mai di cercare di migliorare te stessa ma anche di imparare cose anche perché l'attore alla fine tutto quello che impari ti servirà un giorno all'altro osservare le persone fare corsi diversi imparare lingue diverse fare corsi di danza action stunt quindi tutto quello che fai serve ed è anche una delle cose che mi piace di più del mio lavoro vuole dire qualcosa per la distribuzione? no? però siamo molto contenti che appunto sarà distribuito anche in Italia lo vedremo quindi presto ma concludo con un po' una stupidaggine cioè quella scena della lattina qualcuno ha detto che è Rambo sostanzialmente è vero è ispirata a quello sì è ispirata a quello devo dire che una delle cose che mi ha sorpreso di più nel vedere il film montato perché poi la prima volta che l'ho visto è stata a Toronto è che ci sono dei momenti comici nel film che non mi immaginavo assolutamente c'è un po' di rumore francese esatto quindi quella secondo me è stata una delle scene dove comunque per me è stata comica diciamo sì è ispirata a Rambo non lo sapevo ma me l'ha detto sul set Coralie quindi è interessante perché anche lì come dire nell'ironia che si crea c'è una doppia c'è una strizzata d'occhio doppia nel senso che anche Rambo viene in qualche modo ridimensionato e ridicolizzato sostanzialmente quindi è un modello che però già ha tutti i suoi limiti in questo mi sembra interessante l'operazione che avete fatto mi viene da dire proprio insieme perché certo lei era regista ha pensato alla storia e tutto quanto però ci serviva serviva un soggetto un corpo un'anima che interpretasse tutto e che lo sperimentasse in questo in questo esperimento proprio di lavoro così stretto mi sembra davvero un'opera interessante grazie e quindi ti faccio molti complimenti in bocca al lupo per il futuro del film e grazie grazie a voi grazie a Mattia grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.